bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono la panina io sono xyoder ed eccoci qua finalmente a clash royale per aprire il nostro paolo del clan 10.6 l'avete finito certo che l'abbiamo finito spiegami un po come funziona questo nuovo paolo del clan perché lui non lo può fare perché non ha giocato ha fatto zero vittorie comunque andiamo ad aprire un bel pauletto per riscaldarci prego allora 246 di gold 4 barili rossa 5 forte forte interessante 30 bombardini che li uso e cinque moschettieri modo quindi adesso mi stava prendendo in giro perché lui non lo può aprire andiamo a giocare una 2v2 dai facciamo una bella partitina veloce lui la commenterà io giocherò e lui la commenterà ok solo per quello l'abbiamo qua lui se no poteva anche andare a farmi i fatti miei nel senso allora vediamo un pochettino la pami e con din dance che gioca con pecca tesla spirito e subito una partenza incredibile da parte degli avversari costas più fideli che aprono con una gang centrale addirittura rispingono anche l'attacco il golem e il mago elettrico ma come vedete ragazzi c'è un golem che sta entrando in questo momento colpito dallo stregone all'undici del compagno di squadra della pamina aia brutto questo da che hanno loro hanno tutto spavano un mega spawn deck ragazzi attenzione così attenzione così buona la zap stregale 7 violenta contro un'altra stregale 7 riescono a manificare completamente l'attacco ma è molto pericoloso quel lamberjack che mi passa il nome adesso in questo momento il bosca e lamberjack in inglese il boscaiolo 1436 la torna in basso mi sento 15 con la loro regalo numero grader al bombarolo e infatti riescono a fargli male attenzione di nuovo mago di ghiaccio e sgherrini sul mega sgarro all'undici possono ripartire bisogna sfruttare questo mago di ghiaccio anche se no meglio lasciar perdere ci pensa lui sulla gang ci pensa a lui io l'avrei giocato qual giant avresti fatto una buona giocandona adesso adesso inutile adesso adesso ti bruci il giant adesso voglio vedere come difendete qui attenzione così l'uropa giustamente quelli farete la torre ci può stare perché la furia e op con un gente all'undici non è neanche detto ragazzi non è neanche detto e la sono a 4 e 30 e ovviamente questo è double fireball a eliminare la torre di grande prepotenza allora adesso gli entrano con una violenza spasmodica fatta dal golem poi sono l'humberjack e strega sgarri questi dei piazzati tu lo so che li pensa di tu lui gioca invece gli sgarri sopra ma ovviamente non aveva molto senso avete giocati male tutti e due vediamo se riusciamo ad andare 2007 la torre in basso a sinistra 3052 la torre avversaria in alto a sinistra non lo so ragazzi non lo so wow due tank piazzati in questo momento il golem da dietro il giant eccezionale quello stregone io andrei a zappare subito brava bella zap molto brava molto brava purtroppo è già andato il gigante della pami colpito da entrambe le torri più la gang più le truppe avversarie anche qui la tesla poca efficacia contro il golem solo a stoppare log rider ma purtroppo il tutto condito da una poison si rivela veramente fulminante per i nostri due concorrenti e purtroppo vanno perdere la seconda torre tra pochi istanti perderanno anche la torre centrale ben prima che finisca la partita quindi niente da fare prima va così ragazzi la prima purtroppo va così e ho giocato con 12 non so di parlare ma che cosa star zitti e va bene ragazzi ora andiamo a aprire il baule del clan speriamo di trovare una leggendaria te lo auguro vediamo 1620 di gold buono 7 ora 8 mini pecca istruzzi non mi interessano 71 goblin lanceri lo apre con la vidia lo apre 74 barilli di ossa 12 estrattori dell'isir che non ce ne frega niente brutto schifoso brutto sito ragazzi tre cannone a rotelle non le piacciono facciamone un'altra di 2v2 dai te la faccio io fammela fare a me col tuo decchio perché mi dispiace vederti perdere con quelle tue carte che hai prima giocarlo così ragazze a combattere commenta la tucco mettono combattere io a me piace molto bene molto bene una fortuna d'entrambi commenta commenta dietro con gli sgherrini davanti ci butta un giant e poi cosa ci butti non lo so una palla di fuoco e non vedo però c'è quella torre inferno che è molto disturbante molto disturbante io le odio le torre inferno le odio proprio che ci dobbiamo fare purtroppo c'è e ce la dobbiamo tenere sparchi sulla sinistra dai sparchi non entra neanche lo grader proviamola così proviamola così tutto il ghiaccio davanti torre che colpisce lo spirito un bardino che va a colpire hanno tirato una fireball eccezionale anche qua eccezionale anche qua sono già pronto ancora un attimo di pazienza ok giù adesso davanti alla strega perfetto wow vinta la torre bello facciamo anche due risate per quel tornado tirato in maniera molto molto ambigua attenzione andrei sopra con la firewall su entrambe le torri ma vedo che non dovrebbe esserci troppa difficoltà a colpire le gente ancora full vita al giant volevo solo dire questo attenzione ancora andrei sopra con degli sgherrini un pochettino quanto male gli facciamo spirito del ghiaccio dietro un cattivo il suo boia ad andare ad attaccare però noi cancelliamo tutto molto tranquillamente hai un giant all'undici sfruttiamolo direi vai 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 continuo pure continua pure lui è partito con la scintilla da dietro col bombardino c'è zona così super super la scintillozza ragazzi ciao diciamo due risate di prepotenza andrei davanti giant golem ragazzi così giant golem così e non credo succeda più niente oramai dovrebbe essere più che verso di noi la direzione della vittoria della partita andiamo anche con una fireball sopra 772 507 248 e tra pochi istanti andiamo a portarli giù torre centrale le corone anche ieri combatto dai va bene quindi ragazzi se vi è piaciuto poi carone la corona la corona apriamo il volo della corona però che quello già che ci siamo che ci siamo 660 di gold 2 2000 e 2 interessante io tante di germine 12 cavalieri 9 monta puercos 9 monta puercos 66 spiriti di ghiaccio migliorabile e un'orda di scheletri e tanta roba peccato che non è arrivata la strega è arrivata la leggendaria ragazzi è quale è al cimitero grande e sta su instagram cimitero direi allora ragazzi che per questo video è tutto se vi è piaciuto mettete un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate sempre la campanella per essere aggiornati su tutto per ora è tutto e vi salutiamo ciao ragazzi un bacione grande alla prossima ciao